Nell'alta area vestina continua a tenere banco la discussione accesasi nei giorni scorsi per quanto riguarda il comprensorio del Voltigno, di cui fanno parte sei comuni, dei quali tre ricadenti nella provincia di Pescara, Carpineto della Nora, Civitella, Casanova, Villa Celiera, e tre in quella di L'Aquila, Castel del Monte, Ofena e Villa Santa Lucia. Le precisazioni, più che polemiche, sono nate dopo la convocazione di una conferenza stampa da parte del sindaco di Villa Celiera, Domenico Vespa, il quale, in presenza del senatore PD Luciano D'Alfonso e del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra, ha fatto il punto sulla valorizzazione turistica del Voltigno. Questa azione solitaria del comune di Villa Celiera non è andata giù agli amministratori dei paesi limitrofi come Civitella, Casanova e Carpineto della Nora. Sono anni che si lavora con non poche difficoltà, insieme ai comuni limitrofi, cercando di mettere da parte i campanilismi tra le comunità e giungere ad un piano condiviso di tutela e valorizzazione, chiedendo le giuste attenzioni degli enti superiori a questa parte d'Abruzzo, troppo spesso abbandonata alle sole forze delle comunità locali, il pensiero del sindaco di Civitella, Marco D'Andrea. Per questo riteniamo poco corretto autoproclamarsi capitale di qualcosa, quando si condivide lo stesso progetto con altre comunità vicine, amiche ed unite negli intenti. Con questo intervento a gamba tesa del sindaco Vespa si è buttato via almeno un decennio di lavoro sinergico tra comunità vicine, a fare da eco alle parole di D'Andrea quelle del sindaco di Carpineto della Nora, Donatella Rosini. In 15 anni di attività amministrativa ho sempre sposato le battaglie dell'intero territorio a cui il mio comune appartiene e l'ultima cosa che vorrei fare è una dichiarazione dai toni campanilistici. Il sindaco Vespa ha omesso di dichiarare che la gente che frequenta i sentieri del Voltigno, che a suo dire gli ha riconosciuto questo tributo, non ha potuto accedere al territorio dal versante di Carpineto in quanto la viabilità è da tempo pesantemente compromessa. Eppure, continua il sindaco, in qualità di consigliere provinciale, è perfettamente a conoscenza della problematica ed ha ascoltato più volte, senza dare seguito, alle mie richieste e preoccupazioni in merito. Così, a più di un anno dal tavolo tecnico del febbraio 2019, con tutti i comuni riuniti per sensibilizzare gli enti superiori allo sviluppo e non abbandono di questa bellissima area, qualcosa sembra essersi rotto, dividendo ancora di più un'area che giorno dopo giorno vive la sua parabola discendente.